allora eccoci qua per un'altra chiacchierata per un'altra intervista eh oggi un altro super ospite che si è messo gli occhiali apposta per me a quanto fare Andrea Andrea Panciroli non ti volevo interrompere subito dire il nome e poi mi dicevi perché ti hai rimesso gli occhiali Andrea Panciroli vai perché ti hai rimesso gli occhiali per fare questa sciocca gag se ti ricordi penso che fosse un'applicazione del del Mac che ti metteva la tua doppia faccia che se mettevi la testa così ti divideva in due sembra io sai che la barba così lunga non riesco a tenerla mi viene da strapparmela è già così e arriva a un livello che sai quando mi appoggio sul cuscino dico eh ma guarda che il contrario è più fastidiosa così io prima la portavo così per anni l'ho portata così ed ero convinto che poi se la facevi crescere era peggio e in realtà è peggio così cioè quando è corta è molto più fastidiosa se io immagino che tu c'è il problema che se ti metti una sciarpa si si ingarbuglia nella sciarpa ti tira fatela crescere così se mi senti una svolta anche perché sopra facciamo fatica noi infatti non hanno sempre sempre per sopperire diciamo ora abbiamo svelato questa cosa allora eh perché siamo qua a chiacchierare con Andrea eh forse qualcuno che mi segue su Instagram già lo sa perché Andrea qualche tempo fa eh non molto tempo fa in realtà ha pubblicato questo questo libricino eh da quanto è uscito Andrea di di preciso eh oggi siamo al eh stiamo registrando che è sedici due settimane due settimane e mezzo diciamo dai adesso due K10 l'anno zero dei social eh io ho preso questo libro nel momento in cui ho visto il trailer su YouTube diciamo il video dove lo lo annunciavi l'ho letto eh mi è piaciuto un sacco e l'ho detto anche mentre lo leggevo mentre lo stavo leggendo lo raccontavo su su Instagram che mi era piaciuto un sacco alla fine quando finito di leggerlo ho mandato un messaggio ad Andrea per dirgli che mi era piaciuto e da lì abbiamo detto ma vogliamo farci una chiacchierata in live dove ci racconti un po' un po' di cose. Da lì siamo usciti a cena tutte queste cose. Se fosse stato un anno fa magari qualcuno ci poteva credere a sto giro purtroppo a sto giro purtroppo no. No guarda una cosa che ho detto vai vai scusami. No ti volevo ringraziare perché come leggevo che tra l'altro hai scritto anche te su Instagram far uscire il libro in questo periodo in cui non ci puoi fare firma copie non puoi incontrare la gente fare queste interviste anche un po' l'unico modo di cercare di arrivare un pochino a tutti e per fortuna che c'è la tecnologia che c'è internet se no saremmo tappati in casa. A me sta mancando a me sta mancando tantissimo come come cosa cioè il fatto da autore ad autore il fatto che hai un libro e non puoi andare di persona a scrivere una dedica a fare un selfie ad abbracciare i tuoi lettori è come un figlio guarda sì 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 quindi ti capisco bene ti capisco bene io volevo iniziare con questa cosa quando ho parlato di questo libro io ho pure una rubrica su facebook e linkedin il libro della settimana e la settimana scorso ho consigliato questo di sotto dei libri tecnici ho consigliato questo e ho detto imparerete più roba sul marketing qui dentro che in tanti libri di esperti di marketing italiani che pubblicavano negli ultimi anni sicuramente qualche esperto si sarà risentito sti cazzi ma è la verità e l'ho finita io l'ho adorata quella cosa l'ho adorata quella cosa volevo partire da una cosa così diciamo semplice anche per introdurre un pochino l'argomento tu fai contenuti da una vita e ovviamente in un altro contesto in un altro formato con un altro tono di voce e così via il video soprattutto mi dici un pochino di più dell'esperienza di buttarti sulla scrittura e anche perché non è un libricino voglio dire no di 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 cinquanta pagine come è stata la differenza rispetto al fare un video i i pro i contro le cose che hai scoperto ma guarda io nei video che ho sempre fatto ho sempre come ormai detto tante tante volte ho sempre fatto marketing no anche a livello comico non è che come ne parlo nel libro non penso mai di essere stato cioè non ho mai voluto fare il comico se non avrei fatto palco sul web ho sempre cercato di sull'esperienza degli altri di prendere e rubare un po' avanti indietro poi anche sulla mia esperienza degli degli ingredienti di marketing per diventare famoso e guadagnare dei soldi magari andando in televisione poi è successo a un certo punto che quelli della televisione hanno iniziato a venire noi sul venire loro sul web che diceva ma come funzionava per 60 anni in un modo adesso si torna indietro diciamo poi scrivere il libro è una figata perché per chi come noi lavora su internet dove ieri è uscito clubhouse oggi si torna su twitch facebook aumenta la rich reddit esplode non hai mai tempo di fermarti e tu per star sul pezzo devi cavalcare i trend quindi prima aggiornarti studiare oggi stream yard domani come si crea un service su discord perché c'è una marea di lavoro in back end per arrivare a fare dei numeri e quindi non hai mai il tempo di fermarti la pandemia e l'opportunità di scrivere il libro mi hanno dato diciamo l'opportunità di fermarmi e mettere nero su bianco tutto quello che ho vissuto e anche di godermelo perché poi la roba figa di un libro te l'hai scritto uno lo sai meglio di me è che ti fa scavare dentro te stesso come diciamo non riesci mai a fare perché non hai mai il tempo quindi diciamo è una figata io per ogni libro che ho pubblicato ho sempre detto che in primis li scrivo per me non so se tu hai avuto questa stessa sensazione cioè tu quando l'hai scritto lo pensavi dicevo questo è questo è un percorso che sto facendo innanzitutto per me ce l'hai avuto anche tu questa sensazione cioè prima che per gli altri era era un qualcosa che serviva anche a te assoluta guarda assolutamente sì io penso che poi tu hai visto quanto mi sono messo a nudo hai letto all'interno del libro e la figata del libro è che a differenza degli altri media hai l'opportunità di essere completo in quello che dici cioè qua sai comunque in un'intervista perché la stiamo facendo io te ma dico in generale piuttosto che in un video youtube in un post facebook in una chiacchierata anche tra amici fai fatica a essere così completo perché comunque sia nei social sia nella vita reale ci sono delle diciamo regole no per far sì che una comunicazione funzioni che deve rispettare certi ingredienti nel libro no nel libro proprio gira su altre vibes quindi sei diciamo almeno io quando leggo un libro mi fermo accendo la mia lucina e mi faccio il viaggio insieme a chi l'ha scritto quindi è proprio è più completo diciamo è un'altra cosa sì 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 mi è piaciuto in un passaggio tu prima hai detto una cosa ti voglio fare una domanda su questa cosa qui facevi l'esempio del lavoro che c'è di back end dietro a un contenuto si fa spesso la metafora del dell'iceberg no quindi le persone vedono solo la punta dell'iceberg quando vedono un un video o un contenuto di altro tipo in realtà poi sotto c'è una marea di roba che che al pubblico non arriva e questa è una cosa che io ho percepito un sacco dal libro e che è una cosa che mi è piaciuta soprattutto quando tu parli della viralità soprattutto quando tu parli dei numeroni che facevano alcune tue progetti perché mi piace proprio chiamarli progetti ed è bello perché tu spieghi dall'a alla z senza tenerti nulla ogni singolo passaggio che hai fatto per fare esplodere quel progetto quindi magari al pubblico finale arrivava come o questa cosa è andata virale o il pancio ne ha combinata un'altra dietro le quinte c'erano mesi e mesi dove tu progettavi coinvolgevi gente coinvolgevi sponsor schedulavi gli orari di uscita dei post facevi il retweet il repost le instagram stories eccetera io lo leggevo e dicevo cazzo finalmente uno che dice che la viralità non è casuale cioè è uno su un milione che fa per caso il video virale ma come dire tu fai certi numeri perché dietro c'è un lavoraccio di progettazione di preparazione che è clamoroso e questa è una cosa per esempio che in tanti libri tecnici del settore non arriva come messaggio e a me questa cosa è piaciuta molto e vorrei che magari ci dicesse qualcosa in più ma cioè hai detto bene o male tutto te sai al chiaramente all'utente generalmente soprattutto quelli che seguono me in quanto personaggio non penso che non farei un cazzo scusami il francesismo ma diciamo del back end stanno perché c'è intrattenimento perché sfrutti quello che in quel momento lì è il trend topic piuttosto che non lo so la marijuana può essere può essere sai quegli argomenti che che funzionano in realtà come hai detto tu dietro per far sì che questi elementi diciamo vengano valori veicolati e valorizzati al meglio e che soprattutto facciano i numeri hanno bisogno per non essere dei per non diventare dei casi umani di una preparazione dietro che consenta sia al contenuto poi di vivere anche dopo sia di essere sostenibile a livello economico sia di diciamo diciamo parlare a quella maggioranza silenziosa che legge tra le righe perché io poi penso che sia tanti utenti non interessa ma ci sia una maggioranza silenziosa che comunque legge tra le righe e nota che c'è un lavoro dietro perché a oggi bene o male nel 2021 magari qualche anno fa un pochino di meno ma tutti da chi fa il ristorante a chi fa l'idraulico a chi fa il giornalista o a chi ha un negozio usano i social quindi sanno benissimo sulla loro pelle che cosa vuol dire andare a fare i numeri e cosa vuol dire soprattutto veicolare un contenuto in proporzione più o meno non so che è sempre difficile dare dei numeri però diciamo se tu dovessi fare una proporzione no fatto 100 il totale quanto era il lavoro di back end e quanto era poi invece il pezzo finale diciamo il risultato visibile al grande pubblico ma guarda di questo questo dipende da ogni singolo progetto però diciamo che se dovessimo farlo a livello generale secondo me il back end del 90 per cento comunque di un progetto questo lo dico per tutti quelli che stanno guardando no che poi mi scrivono i messaggi mi dicono sono tre mesi che faccio video su youtube non mi segue nessuno il 90 per cento del lavoro è il lavoro di back end quindi come dire giù la testa e pedalare secondo me quello il 10 per cento che è quello che poi in realtà si vede e anche diciamo la parte nella quale puoi essere un po più superficiale ma nel back end devi veramente dare il massimo se no una roba non funziona io non penso che le robe funzionino a culo ci deve tu devi cercare di mettere l'universo intorno in modo che poi quel contenuto lì funziona ti faccio un esempio sciocco su Natale Roccaraso che è un lungometraggio pubblicitario che noi abbiamo fatto con rai pubblicità lo annuisci perché so che tu l'hai letto il libro ma magari voglio qualcun altro adesso vado a bere un po' d'acqua che sennò c'ho la saliva che mi fa l'ascensore dai denti no adesso ci vado ti finisco questo concetto qua e lì la c'è il lavoro di back end è stato talmente tanto fatto bene a livello di marketing che erano già usciti contenuti critici o a favore più critici in realtà direi anche giustamente ma prima che uscisse il contenuto e tra l'altro il contenuto era una roba che in realtà era una pubblicità di 30 minuti ovviamente quindi a noi insomma una grossa dignità artistica non poteva avercela però e come l'abbiamo veicolato cioè perché poi dipende tutto da quello che tu vuoi andare a fare se vuoi andare a fare degli iscritti se vuoi andare se lo stai facendo per fare dei soldi se lo stai facendo per andare a fare dell'intrattenimento se lo stai facendo per fare posizionamento dipende dal motivo è quello sul quale si basa il back end questo aspetto è meraviglioso perché io lo percepivo in tantissimi passaggi la la cura del dettaglio tu hai detto no allineare tutto l'universo era proprio la cura del dettaglio che vede c'erano delle cose che io dicevo cazzarola magari io anche da detto ai lavori quando ho visto questo progetto non ci avevo pensato che quella cosa era era preparata era schedulata eccetera eccetera invece anche quello era un dettaglio preparato e secondo me questo è un messaggio fondamentale soprattutto al pubblico che dice tu prima no prima hai detto oggi anche il negoziante e il ristoratore devono stare sui social eccetera eccetera e devono capire che sta roba devi fare in maniera professionale cioè dietro se vuoi dei risultati concreti poi devi approcciarle in maniera professionale come approcci in maniera professionale il resto cioè tu nel ristorante il cibo lo tratti in maniera professionale per dare poi al tuo cliente un piatto degno di questo nome e devi fare la stessa cosa su instagram facebook ma guarda secondo me purtroppo purtroppo almeno per il momento soprattutto se vuoi andare a fare dei numeri è più importante il marketing che il quasi il contenuto che vai a fare è triste da dire però questo sono strada accordo faccio sempre incazzare qualcuno quando dico che un prodotto mediocre con un buon marketing è meglio di un buon prodotto che con un marketing mediocre perché alla fine la verità cioè possiamo essere scandalizzati da questa però è la verità ma tutte le grandi tutte le grandi aziende senza citare che magari mi becco qualche querela però è tutto marketing cioè di contenuti soprattutto su grande scala magari penso ai colossi della ristorazione hanno poco però poi dopo prendono il l'influencer per far posizionamento e fanno il suo panino piuttosto che l'acqua e un'altra cosa e se posso permettermi come consiglio per chi vuole iniziare a fare contenuti su internet è non non leggete i manuali di chi fa marketing no come dico nel libro che lì poi ovviamente io sono anche un po' cioè lo faccio in maniera comica quindi esaspero delle situazioni però sappiate che il marketing è difficile da studiare perché online perché è dinamico e quindi ti devi saper adattare e saper leggere in continuazione i feedback degli utenti e saper reinventarti girando a destra a sinistra a seconda di dove va la tua community anche della piega che prende mi ricordo per fare un esempio sai la famosa festa che fecero fedez e la ferragna il carrefour che poi ci fu quell'inquadratura rubata dove loro dicevano gli diamo in beneficenza quello è un esempio di rubato a parte un esempio di salto del capretto che lo spieghiamo nel libro ma è anche un esempio di come a seconda della piega che prende certi tipi di contenuti poi devi essere bravo tu a reinventarlo e lì questo non lo trovi sui libri lo trovi diciamo processando ogni singola azione di marketing in maniera dinamica come farebbe un illusionista cioè quindi guardando tutti i punti di vista valutando al volo cose meglio cose peggio i pro i contro sulla base degli errori che hanno fatto gli altri in passato e della tua esperienza personale la tua di quanto tu conosci il tuo target diciamo ne parlavamo prima diciamo prima della dell'inizio della chiacchierata ufficiale e dicevamo quanto è quasi surreale no a volte leggere un manuale su un argomento che è così veloce così dinamico se oggi uscisse un libro su clubhouse sarebbe vecchio fra due settimane perché clubhouse sarebbe completamente cambiato cioè in alcuni contesti l'unico modo che ha senso è quello di sperimentare di sporcarsi le mani fare le cose sul campo cioè posso magari studiare come dire i concetti teorici che sono gli stessi da secoli però poi l'applicazione con il mezzo con lo strumento con la piattaforma lì devo smanettare c'è poco da fare va talmente veloce tu che rapporto hai con con la sperimentazione libro si percepisce che ti reinventi ti sei reinventato un milione di volte che rapporto hai con la sperimentazione ma innanzitutto a me ovviamente da una parte mi piace fare un po il pirata e buttarmi in questi oceani o mari nuovi che nascono dall'altra è una palla un po che ti torna sempre in culo per usare un altro francesismo perché quando fai sei prima a far certe cose e tutti quelli che bene o male sono popolari è perché sono stati primi nel fare qualcosa besti una marea di merda quindi per ritornare a quello che dicevi tu sui manuali è quello quello è il problema di internet c'è di internet della tecnologia che la tecnologia è troppo essendo basata sul machine learning e vivendo noi ormai su internet diamo a queste applicazioni talmente tanti dati al giorno che sono molto più veloci di noi nel reinventarsi e quindi leggere un manuale di marketing oggi non ha senso perché l'uomo è proprio stupido rispetto alla tecnologia cioè non è chi fa marketing che lo è è che noi siamo proprio indietro tant'è che a oggi facebook ha 15 mila persone che seguono le segnalazioni e una volta le aveva il doppio e probabilmente domani non ce ne avrà più o ce ne avrà pochissime e faranno tutti i bot perché sai una volta che tu processi sei milioni di segnalazioni al giorno queste macchine lo imparano lo fanno più velocemente e lo fanno meglio e questo è il problema di diciamo di internet in generale che poi questo si riflette sia sul marketing che purtroppo anche sul lavoro perché tanti lavori stanno scomparendo perché è più comodo è più comodo perché poi il problema è che è più comodo tutto internet come dico nel libro all'inizio internet era nato per i porno parliamoci chiaro e per diciamo divertimento o per risparmiare a oggi su internet ci stiamo per noia e per risparmiare tempo quindi perché è più comodo nella maggior parte dei casi ovviamente poi c'è chi lo usa per lavoro cioè è una figata internet io e te stiamo facendo un'intervista dieci anni fa col cazzo capito che la facevamo una roba del genere su streamyard quindi a tantissimi lati positivi neanche qualcuno che ovviamente siamo un po noi cioè una volta erano noi che sperimentavamo sulle macchine mo è un po forse contrario no io sono l'esempio lampante direi eh beh guarda se penso a tutti gli studi che stanno facendo di come gli algoritmi dei social poi influenzano pesantemente lo stato d'animo l'umore le sensazioni eccetera eccetera direi che non è una uno scenario così futuristico quello che stavi descrivendo è qualcosa nel quale siamo già immersi fino al collo probabilmente avevo una curiosità tu prima hai detto una cosa molto bella e su questa volevo farti una domanda secondo me in questo libro una cosa che percepivo tantissimo è proprio la separazione tra la persona e il personaggio non so se è il termine giusto provo a spiegarmi meglio questa è una cosa sulla quale io rifletto spesso e mi piace confrontarmi anche con altri creator altre persone che sono online in generale è molto difficile separarsi dal proprio lavoro no quindi anche le persone che fanno lavori offline hanno la tendenza a identificarsi col proprio lavoro quando invece sei online e sei esposto non per forza con i milioni di follower anche con un'udienza piccola diventa molto difficile separare te da quello che è il tuo contenuto te da quello che è il tuo personaggio e quello che metti fuori e in questo libro secondo me tu ci provi veramente tanto io lo percepivo molto in alcuni passaggi soprattutto mi fa ti dico la verità c'erano dei passaggi che proprio mi facciano vedere la pelle d'oca quando dicevi anche magari qualche situazione spiacevole nella quale ti ti ritrovavi vorrei innanzitutto perché non tutti l'hanno letto che ci dicessi qualcosina in più tu su questa cosa ma soprattutto ad oggi se tu questa cosa riesci a farla e come quanto è difficile tenere questa separazione tra no Andrea la persona che è un papà che è un compagno ed altre cose poi Andrea online che deve fare i contenuti ma allora guarda per quanto riguarda la mia persona io ci ho avuto un po un casino perché essendo nato sette anni fa per sui social veramente sette anni fa si metteva un personaggio che era inventato esempio frankie commando esempio martina dell'ombra cioè veramente esistevano dei personaggi nessuno si sognava di mettere la propria persona online cioè io mi ricordo le primi che lo facevano come dico nel libro erano dei casi umani no perché era proprio l'approccio che avevamo c'è nessuno neanche pensava di mettere un pensiero li prendevamo per il culo che mette che faceva le relazioni di coppia online che lo scriveva nessuno avrebbe mai pensato che sarebbe diventato normale trattare argomenti e mettere la propria persona su internet io su per quanto riguarda invece oggi è cambiato molto io non ho degli studi sulle spalle per sostenere certe tesi quindi nel libro l'ho scritto con l'ausilio di davide bennato che è un professore e della psicologa bianca cavallini per cercare di unire un po la mia esperienza alle loro conoscenze diciamo che a oggi cerco di tradurlo in pancese non dirlo come lo direbbe bennato i personaggi che ci sono online sono un po delle estremizzazioni della persona che sei una via di mezzo tra il tuo lavoro quello che vorresti essere e quello che funziona e questo è diverso quindi io mi sono trovato nel libro a doverlo spiegare perché io proprio arrivo da un altro internet rispetto a quello che viviamo oggi a oggi secondo me io vedo tanti che spesso si usa dire oggi devi separare la persona dal personaggio però tante volte c'è poi sui social mettici che c'è la community anche che tende a polarizzare quindi o sei un genio o sei un coglione ti devi identificare in maniera chiara nel libro però quello è un po quello che dicevamo prima su e che dice penso mcluan quindi non uno stupidotto ma medium is the message no quindi a seconda del media che tu utilizzi e arriva un messaggio anche diverso no perché ha delle vibe del tempo diverso sai in un libro puoi dirle certe cose sui social dove siamo sempre pieni di feed di notizie certi tutti tendiamo a ridurre ma anche proprio per semplicità anche perché se no impazzisci quindi non vai a pensare raffaele sta facendo st'intervista perché vuole fare questo perché magari ha questo background avanti indietro ma dici vabbè ha fatto l'intervista al pancio perché comunque ha fatto il libro magari fa qualche visualizzazione cioè è sempre ma io per primo cioè secondo me proprio io parlo anche di bias cognitivi all'interno del libro per non farmi mancare nessuna figura di merda e di scorciatoie euristiche e proprio però perché è cioè secondo me è un tema centrale che viene spesso spesso ne parliamo poco non sono dei trend topic però è il nuovo modo di approcciarsi a queste alla questa nuova realtà che magari anche adesso per cause di forza maggiore è sempre di più online cioè io non so quanti pareri tu senti offline oggi ormai è tutto online questo momento storico è un po lunghino però è esatto sì 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 mi manca tantissimo il feedback normale diciamo tra l'altro spero di averti risposto assolutamente no no assolutamente assolutamente mi chiedo questa è una cosa che tu oggi riesci a fare provi a fare a tenere questa separazione ti viene naturale devi sforzarti cioè come la vivi ma no tra persone personaggi in te cioè io non cioè secondo me con una telecamera davanti nessuno di noi è se stesso è impossibile essere se stessi davanti alla telecamera poi noi siamo cresciuti in un mondo dove tu sei una persona vera su instagram con maria de filippi adesso è peggiorato con instagram perché io sono voi siete dei fake no mentre secondo me nessuno è se stesso c'è solo uno stupido è se stesso con la telecamera davanti per come sono cresciuto io e per il background che ho io cioè non mi scaccolerei mai o non mi comporterei mai normalmente davanti a una telecamera devi sempre è a seconda anche del contesto in cui sei quindi ma perché vuol dire che sei proprio uno stupido io non la vivo da dio come roba perché essere se stessi vuol dire io se sono me stesso mi godo la mia vita offline mentre io per lavoro come magari anche te siamo costretti a esporci e a avere un'attività online costante questo qua ti porta per cause di forza maggiore a essere sempre un po di più il personaggio ma anche perché se no non funzioni cioè quindi diciamo che e perché poi la diciamo la roba più tragica è che tutto questo è legato sul web all'economico e quindi è un cane che si morde la coda sai siete raffa domani che è un po anche un limite secondo me di internet se tu domani volessi fare qualcosa che è comico perché ti alzi la mattina e lo vuoi fare comunque non lo puoi fare perché comunque tu hai un imprinting il tuo canale diverso e quindi secondo me tante volte ti diciamo ti chiude no internet anziché aprirti poi magari perché siamo all'inizio di internet magari fa qualche anno sarà diverso però questa è una cosa che mi piace questo passaggio tu l'hai fatto però ci sei riuscito e ci sei riuscito anche in maniera molto oserei dire elegante fluida cioè tu quando hai fatto l'inizio per la serie delle interviste millennials che citi anche nel nel libro e quello era un momento storico un passaggio storico interessante io mi ricordo che ho visto il primo monologo che hai fatto sì e ho detto wow non ci credo che la stessa persona di cui vedevo i video fino fino a qualche mese fa no e mi fece un po l'effetto di quando vedi il famoso video di di clapis no che diceva raga io in realtà mi voglio occupare di arte mollo tutto quello che ho fatto a me ma mi ha fatto quel tipo di effetto molto simile ti dico la verità ed è proprio il cambio che stavi facendo tu ci dicevi raffa per te magari domani sarebbe difficile metterti a fare io domani voglio di ragazzi in realtà sono passione di cucina e voglio parlare solo di ricette tu questa cosa l'hai fatta l'hai fatta molto bene clapis qualche anno fino prima l'aveva fatto l'aveva fatto anche lui penso molto bene raccontamelo magari quel passaggio e fammi capire se in realtà è stato difficile nel dietro le quinte e l'abbiamo solo noi percepito come dire facile così su youtube o c'era no no è stato difficilissimo anche perché comunque devi proprio cambiare schema mentale cioè proprio il metodo di ragionamento perché come se tu in back end lavori su con altre corde su altri tipi di contenuti per quanto riguarda però i numeri se tu vai a vedere perché poi siamo sempre lì è un po' quello che dicevamo qualche minuto fa comunque prima con un video facevo se vai a vedere sul mio canale sia su facebook su youtube facevi 6 7 milioni con quei tipi di contenuti lì fai mezzo milione di visual che poi sono tante io nel libro ne parlo di quanto sono soddisfatto anche il libro è diciamo uno scalino ancora sopra però sai più alzi diciamo il contenuto più stringi la forbice dei soldi perché vuol dire anche numeri no e quindi non è facile perché poi almeno io sono nato in un mondo dove chi ha più numeri è il più forte no e per quanto io sappia dentro me stesso che non è vera come roba però sai quando sei siamo rimasti in pochi a credere a questa roba qua o comunque per la maggior parte delle persone quella è la religione è un po' una lotta anche contro i mulini a vento quindi tante volte a me mi capita ancora di cedere al peccato diciamo perché comunque tirò del culo detta come va detto scusate però ho capito cosa vuoi dire sì 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 cioè nel senso dici la so questa cosa ma non è facile poi rimanere costante su quella visione no non è facile bravissimo ma perché proprio vedi ti faccio un esempio io a fare il libro e a non mettere contenuti su instagram ho perso 70 k che io so che sono 70 mila persone mila mi piace mila seguaci che volevano un contenuto mentre io adesso voglio farne un altro tipo e quindi poi sai quando leggi il libro prendi anche una consapevolezza di te diversa perché è proprio il tempo di fermarti e dire ma cosa mi conviene fare cosa è meglio cosa mi piace più a me quindi io sono molto sicuro delle scelte che ho detto nel libro pandemia insomma tralasciando la pandemia che non pensavo finisse un po' prima sinceramente però poi quando ti scontri coi numeri cioè ti fai male quando vai a fare io nel libro ne parlo del rapporto che ho con Filippo Giardina che è uno stand up comedian e di come lui per me è uno dei più bravi in italia però poi dopo tante volte raccoglie gli serve molto più tempo e poi magari per raccogliere molto meno numeri ma io con con millennials l'avevo provato a fare per via degli ospiti quindi avevo cercato di mettere degli ospiti bene o male nei stream per strizzare l'occhio a diciamo quello che avevo creato negli anni però cercando di spostare il contenuto però tante volte anche lì non è detto che da uno che ha sempre fatto pierino vuoi farti parlare di patente dei social perché quello era l'obiettivo però io ricordo con molto piacere i monologhi prima della dell'intervista certo l'ospite era mainstream e così via e ci sono state anche delle belle riflessioni dai bei momenti con alcuni ospiti però io quello che ricordo era Andrea che faceva quei cinque minuti monologo e ti faceva una riflessione che era interessante ti accendeva qualche lampadina ti metteva qualche domanda nel cervello e quello per me era un come dire un piccolo momento wow certo capisco che numericamente non era paragonabile a quello che succedeva prima però se tu stavi puntando a parlare a un pubblico diverso con un tono diverso eccetera eccetera per me cavolo chapeau obiettivo grazie no no guarda io è stato proprio fatto per iniziare a far vedere anche la mia community che stavo lavorando sui live mi fa strapiacere anzi ti ringrazio di questo mega complimento me lo tengo strettissimo per quanto riguarda cioè poi detto tutto te adesso mi hai fatto emozionare sono contento che ti siano piaciuti i monologhi cioè noi ci abbiamo messo tanto ma soprattutto perché io avevo voglia di fare anche altre cose anche perché poi sai dopo sette anni che fai contenuti dove chiavi una fumi e e tra l'altro io sono convivo da otto anni quindi non chiavo nessuna parte la mia ragazza e non e non faccio altre cose cioè dopo un po finiscono anche le idee ma soprattutto guarda l'idea delle idee che comunque grazie al cielo c'è la marijuana no scherzo e c'è anche il la voglia no di dire la consapevolezza che comunque questo mezzo qua è da cioè andrebbe raccontato da noi che lo facciamo mentre tante volte viene raccontato da altri l'idea di millennia se era quella un attimo visto che comunque io 35 anni e una figlia di sei di provare a dare una direzione di un padre di famiglia che ha vissuto il web e cercare di dare il proprio sguardo sul mondo per mezzo anche di diciamo degli ospiti noi abbiamo scelto come tipo di intervista quella come modello abadiu vandum quindi un po come fanno diciamo i giornalisti con magari i mafiosi no dove cercano di tirargli via delle cose e io da detto ai lavori parlando di social con chi ha fatto social è un po diciamo come se è un po più facile far uscire dei concetti perché di fianco a te hai uno che vuole come me che o ha fatto peggio di te o comunque le ha vissute in maniera simile sì sì in un passaggio adesso stavi hai citato hai citato tua figlia io ricordo nel primissimo monologo la cosa che mi colpì un sacco era che tu usavi come pretesto narrativo per introdurre questa nuova serie proprio il fatto che avendo una figlia dicevi io a un certo punto mi sono posto la domanda da papà ho fatto video cretini per per una vita a un certo punto mia figlia arriverà su internet troverà questi video i suoi amichetti gli diranno di questi video eccetera e le arriverà da me con delle con delle domande certo è una riflessione bellissima perché noi siamo quella generazione di mezzo cioè i nostri genitori la generazione prima diciamo ha vissucchiato un pochino internet magari senza capirci granché la generazione dopo c'è nata dentro e quindi non sa com'era il primo noi siamo questa generazione di mezzo che è una bella inculata perché è difficile riuscire a mantenere un equilibrio tra il prima e dopo e noi riusciamo a fare la differenza tra il prima e dopo e quindi siamo l'unica generazione che si troverà a vivere questo problema cioè quando tu lo dicevi io dicevo cazzo sta riflessione è sacrosanta perché la nostra generazione sarà l'unica che si porrà questo problema no del come spieghiamo certe cose ai nostri figli che abbiamo messo abbiamo fatto online quindi quanto ha impattato quanto ha influenzato diciamo se vogliamo in questo cambio un po di di andrea online il fatto di avere una figlia in questo caso tutto cioè la fesso non voglio fare un ragionamento qualunquistico ma una figlia ti cambia la vita io all'inizio ovviamente sai specie per noi papà all'inizio una bambina è più attaccata alla mamma poi dopo quando prendi consapevolezza che ti inizia a parlare insomma star con te però veramente non voglio fare quei genitori che i figli chi ce l'ha lo sa io quello che ho cercato di fare è perché con millennials con la patente del web e con il libro è quella un attimo ma anche con il sindacato di creatori di contenuti che ho fatto una cosa nell'ultima puntata di the millennials che poi adesso ha aperto un question time a la camera del lavoro su proprio perché non esiste il codice a teco dei creatori di contenuti quindi via stepni tutto c'è e che è un mondo è una giungla sulla quale noi stiamo facendo stiamo mettendo tutto il nuovo mondo del lavoro e quindi io da genitore anche se penso di essere l'ultimo delle persone che lo doveva fare però sai quando non hai alternativi dici o io intanto mi molo così un giorno domani gli dirò amore mio io ci ho provato a dire che c'erano dei problemi poi sai con i mezzi che ho secondo me internet è una figata però insomma l'abbiamo visto anche negli ultimi mesi da Fabrizio Corona quello che è capitato online piuttosto che la ragazzina su tiktok ma ci sono c'è veramente a stepni che con la guardia di finanza io conosco tra l'altro abbastanza bene anche il caso conoscendo lui c'è veramente e non lo so se ci stiamo buttando senza c'è in un mondo che non conosciamo neanche noi che facciamo gli addetti ai lavori dove non c'è sicurezza dove tante volte si dà l'idea che sia tutto figo che ci sia una marea di economico e invece insomma è un po' è un po' diverso è enorme come mondo infatti c'ho scritto un libro perché a parole fai fatica veramente a definirlo è talmente nuovo anche i rapporti sociali che ci sono venuti a creare come tu dicevi noi i nostri genitori io mio padre ho la massima stima ma perché non aveva i social se no anche io penserei che mio padre è un coglione perché quando perché la roba è l'oblio cioè rimane lì per sempre non è il controllo poi cosa succede c'è il come dicevamo prima c'è il salto del capretto il freebooting quindi ci sono delle un contenuto può prendere diecimila dinamiche una volta se tu facevi un discorso bene o male era quello lì il discorso a oggi può diventare un video meme una reaction può essere strapolato guarda ai ragazzi del cerbero cosa gli è capitato con il saluto romano che avevano fatto che è stato ricaricato penso che lo conosca anche tu no come è stato ricaricato hanno preso dei fascisti ovunque no ma adesso ti cito loro perché un esempio che mi è venuto in testa ma ce ne sono diecimila e tutta questa roba qua è incontrollabile la stiamo facendo andare così a cazzo no con dando i device ai ragazzini e sperando che queste aziende private ci tutelino cioè che proprio fa veramente ridere da fuori quando meno come cosa cioè perché sarebbe come se la Philip Morris dice andate tranquilli che il tabacco che metto io comunque ci penso io la voce sembra quelle campagne lì no quindi sì figo tutto molto figo perché secondo me anche il più stupido di noi con la tecnologia ha più conoscenze di Leonardo da Vinci perché hai tutto in mano no anche con gli assistenti vocali però comunque c'è bisogna regolamentarle queste robe qua perché stiamo come dico nel libro scherzando col fuoco la vuoi spiegare la cosa del salto del capretto perché l'hai citato un paio di volte io so a cosa ti riferisci magari chi non ha letto il libro non lo sa e secondo me è un fenomeno super interessante il salto del capretto il salto del capretto praticamente è quando qualcuno una terza persona non il soggetto diciamo del contenuto prende un video e lo sposta senza dire senza nessun consenso da una piattaforma a un altro oppure dalla realtà a una piattaforma che ha un linguaggio una community e comunque un approccio diverso da dove è nato quel tipo di contenuto qua esempio saluta Antonio che fa un video su con suo papà in macchina e poi lo tiene per lui e poi viralizza attraverso i gruppi facebook eh William Solo Angela Damondello Tiziana Cantone eh eh quello è mh adesso non mi viene in mente quello del Black Lives Matter perché poi può anche essere positivo il salto del capretto attenzione nella maggior parte dei casi però che è quello che noi intendiamo salto del capretto eh cosa succede che il contenuto diventa virale nonostante il soggetto del contenuto non volesse che quel contenuto lì diventasse virale e quando il capretto che ormai è diventato tra virgolette lo zimbello no della community nel quale è stato applaudato quel contenuto lì non potendosi sottrarre a questa marea di hype che riceve decide di guadagnarci quindi magari va a fare un'ospitata dalla D'Urso piuttosto che una canzone un libro una partecipazione in qualcosa viene ucciso dalla stessa community che l'ha creato e quindi è assurdo come dico nel libro ma è questo è quello che siamo noi su internet e questo è uno dei tanti per riallacciarci al ragionamento che dicevamo prima nuovi rapporti sociali che si sono disegnati eh con la rete e che secondo me una società intelligente dovrebbe fermarsi analizzarla anche per evitare che altri eh incappino nello stesso errore no perché comunque poi come dicevamo il black lives matter quindi eh diventa una è purtroppo un fenomeno un fenomeno scusami un caso che purtroppo ha portato alla morte di una persona ma dal quale poi quindi un evento brutto ma dal quale è nato poi il black lives matter quindi una consapevolezza diversa che magari se non ci fossero state quelle immagini non avrebbe avuto quell'impatto così forte però dall'altra parte è Tiziana Cantone che si è tolta la linta cioè è enorme capito io nel libro quello che proprio è e che mi piacerebbe passasse non è delle soluzioni ma degli interrogativi cioè dove stiamo andando questa è l'idea diciamo secondo me e secondo me cioè questo è è un altro grosso come dire punto a favore di questo di questo testo che è una cosa tra l'altro condivido io ho sempre guardato con molto sospetto gli esperti che arrivano con le risposte no i guru che stanno sempre tutti hanno sempre le ricette per ogni situazione ma ma dovrebbe essere il contrario cioè io apprezzo una persona quando mi stimola una domanda quando mi mi fa iniziare a che di notte poi ci pensi dico cazzo sta cosa è vera ma forse dovremmo iniziare a ragionarci meglio no forse devo capire come possiamo giustare perciò ho detto spieghiamole il stato del capretto perché quello è un fenomeno che viviamo tutti i giorni ovunque a volte in maniera spaventosa a volte in maniera divertente ed è una roba che è come dire che non possiamo più ignorare perché alcune volte fa dei danni molto molto grossi ma guarda ma secondo me è anche cambiata la semantica di io lo provo a spiegare anche questo nel libro di tante parole c'è proprio cambiato il significato comico cioè io non sono un comico però per internet sono un comico quello che faccio io ma i fan una volta come i fan club erano fatti da delle persone che erano veramente invasate no del loro idolo ok a oggi siamo tutti fan di qua cioè se io ti dicessi a te raffa ma sai cosa ha fatto insurcio stamattina e tu mi dici no non lo so io ti dico è andata a prendere andata a fare un giro in bicicletta e ha sudato tu mi dici ma che cazzo me ne frega però tu da solo adesso non per insurcio che l'altro gli voglio bene se guarda l'intervista lo saluto ma però tutti noi la mattina decidiamo di guardare le storie di insurcio o l'altro per curiosità cioè proprio che ha cambiato è cambiato tanto anche il nostro del nostro essere senti non ti voglio rubare ancora molto tempo andrea però una curiosità ce l'avevo noi siamo partiti dicendo ti ho chiesto un pochino come è stata la differenza di scrivere un libro rispetto ai contenuti fatti in precedenza quindi soprattutto in formato video la cosa che voglio chiederti per chiudere è cosa ti ha insegnato scrivere questo libro qual è la il principale proprio insegnamento che ti sei portato a casa tu nell'esperienza di scrittura di questo libro minchia che domandone ma guarda il libro a me mi ha insegnato sicuramente che per fare del contenuto devi lavorare sul contenuto so che è una banalità inumana però queste per quanto riguarda a questo a livello professionale a livello lavorativo che è sempre meglio fare marketing che fare contenuto diciamo che è quello che dicevamo perché così siamo anche circolari con l'intervista però sai comunque io ero molto consapevole di fare contenuto e non marketing nel libro però penso e spero che comunque col tempo il marketing anche perché sai una volta che facevamo marketing eravamo in 20 in italia oggi è talmente fatto da tutti di sceneggiare le storie studiarsi le caption per facebook fare dei gruppi su clubhouse ad hoc piuttosto che delle live twitch che penso che il marketing col tempo si perderà un pochino e funzionerà molto meno il web visto come canale generalista ma le nicchie e il contenuto alla lunga usciranno perché io credo che comunque la tecnologia per quanto come dico nel libro sia anche pericolosa ma avendo anche una figlia devo essere positivo e credo che e elevi la persona ad avere più interesse a essere più acculturata e quindi a prendere consapevolezza e a vivere meglio no il mondo proprio anche il tuo rapporto col mondo per cercare di essere un valore aggiunto bello 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 va bene io ti ti lascio andare ti ringrazio innanzitutto perché mi hai dedicato è un'ora ormai che stiamo parlando e forse avremmo tirato ancora avanti per per tanto grazie forse è meglio fare meno che dicevamo meno cattate no no guarda noi abbiamo detto un sacco di cose un sacco di cose interessanti se avete la possibilità recuperatevi 2k10 perché sono dove imparate più cose qui dentro che tanti manuali di marketing andrea grazie mille della ghiacchierata e in bocca al lupo per i prossimi progetti crepi grazie a tutti e in bocca anche a te per il per il libro grazie a tutti e in bocca al